è dura ragazzi è dura 5 km è dura questa è una palestra naturale qua sono tutti qui a correre la mattina in bicicletta fare attività fisica questo è uno dei bagni storici di Livorno e questo è l'hotel palazzo bagni fan caldi ecco e questa è la terrazza Mascagni qua immaginatevi l'estate il casino che c'è turisti, i bornessi, gente in giro c'è di tutto e di più l'estate, fra un mese qua fra un mese questo credo sia più il più bello albergo che abbiamo a Livorno qua il ritiro delle squadre di calcio quando c'era Livorno in serie buona adesso e questa è la terrazza Mascagni la terrazza Mascagni beh adesso aspetto mia figlia che ritorna indietro lei è un altro pazzo sei di chilometri ne ho fatti cinque la ne ho fatti quindici torno indietro lì dove ho la macchina facciamo colazione lì alla baracchina bianca e poi andiamo a casa buona pasquetta ragazzi buona pasquetta a tutti dai statemi bene è un po' freschina va l'aria la mattina è un po' frizzantina ancora ciao